L'italiano bilotta, piccoli doni divini, edizioni arappie. Piccoli doni divini è la cronaca di quanto vissuto da un autore, per oltre mezzo secolo, a contatto con Medinua e tramiti spirituali, talvolta anche falsi. Se da giovane ha prevedito lo studio di economico fisici, infatti, da adulto ed anziano si è specializzato nell'insegnamento dei maestri dell'immaterialità, con l'obiettivo di sincretizzarne e divulgarne il messaggio.